Massimo Morsabellini è un giorno importante per Clusone perché ufficialmente da oggi 15 settembre c'è un nuovo comandante della Polizia Locale di Clusone. Sì esattamente, questa mattina ha preso servizio presso il Comune di Clusone il Commissario Capo Ilaria Tomasoni, quindi a lei un benvenuto, quindi siamo felici di averla qui all'interno del nostro comando di Polizia Locale che è un comando importante perché è un comando comunque che è costituito da 6 persone più uno più il comandante, quindi siamo a 7 persone e per una cittadina come Clusone è comunque una bella risorsa. Cosa cambia ufficialmente? Allora, sì innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare una persona che è il sovrintendente Daniela Bonaccorsi che ha assunto il comando provvisorio del Corpo di Polizia Locale del Comune di Clusone per l'anno 2022, cioè da quando l'ex comandante Giuliano Vitali ha preso servizio nel Comune di Massa e quindi lei si è resa disponibile su mia richiesta, su nostra richiesta di assumere questo comando in maniera temporanea sapendo che comunque avremmo dovuto fare un concorso per ragioni diciamo normative e che quindi da oggi arriva appunto il nuovo comandante Daniela Bonaccorsi che ha svolto un lavoro egregio insieme ai colleghi e che quindi ringrazio veramente per tutto quello che ha fatto in questi mesi per noi. Quindi ecco da oggi assume il comando in maniera definitiva il commissario capo Ilaria Tomasoni e quindi si parte con un nuovo percorso quando si sa che quando c'è un cambiamento così importante ai vertici diciamo della struttura quindi poi si traprendono delle linee nuove e tutto quanto quindi ci sarà un lavoro nuovo da cominciare con oggi. Abbiamo visto in questi anni tanta attenzione verso i bambini, verso i ragazzi, verso anche quello che è l'insegnamento dell'educazione civica e in questo caso questo credo che sia comunque una mission che porterete avanti anche a livello di comune insieme alla polizia locale. Assolutamente sì, partire dai più giovani, educazione civica dici bene, ce n'è bisogno, c'è bisogno di tanta educazione, di tanta consapevolezza e ciascuno deve fare la sua parte con il corpo di polizia locale ma in generale come amministrazione, come comune di Clusone ci sono tante iniziative rivolte anche a questo aspetto di sensibilizzazione e di educazione appunto con il coinvolgimento anche delle scuole quindi prestissimo ci sarà un corso di educazione stradale presso le nostre scuole, il nostro istituto comprensivo abbiamo visto a maggio-giugno che c'è stata anche la giornata in bici dove anche lì è stata fatta educazione stradale insistiamo sempre sull'aspetto di educazione civica legata all'abbandono dei rifiuti, al fatto comunque del rispetto del codice della strada e su questo punto stiamo battendo molto, stiamo combinando tante sanzioni per l'abbandono dei rifiuti sebbene questo aspetto sia ancora troppo radicato all'interno del nostro comune quindi queste cose continueranno tutte anzi verranno ulteriormente incrementate con l'aggiunta di questa nuova figura quindi una persona in più, ci sarà quindi anche un incremento dei controlli, della sicurezza, dell'educazione civica tutto nell'ottica del civismo quindi di una qualità della vita superiore nel comune di Clusone Grazie